Dopo quattro anni di lavoro si va all'adozione del piano integrato che molto ha fatto discutere Vertova. L'intervento il cui ammontare si attesta attorno ai 25 milioni di euro garantisce, parola di primo cittadino, un'opportunità enorme da ogni punto di vista, anche per i commercianti particolarmente diffidenti. Quell'area che oggi è dismessa, ormai ferma da circa 15 anni, dovrebbe essere riconvertita parte residenziale, parte commerciale. Una media struttura di 1500 metri quadri, più altri negozi di vicinato per circa altrettanti 1500, quindi circa 10-15 negozi di vicinati. Non è un centro commerciale, è una dimensione sicuramente più vicina a quello che sono le nostre realtà. Un impatto ambientale notevole per questa realtà? Sì, abbiamo valutato sicuramente. A livello di spazio sono 15 mila metri quadri, quindi non è uno spazio enorme. Teniamo conto che però proprio nel piano si prevede anche questa ipotesi. C'è già una strada che è la via canale al di là del canale, all'interno del piano verrà fatta un'ulteriore strada in modo tale da creare un senso rotatorio, un'entrata e un'uscita dei mezzi. Teniamo conto che siamo in prossimità alla nuova rotatoria, quindi il flusso di traffico dovrebbe essere comunque abbastanza snello e non dovrebbe comunque creare impatti particolarmente negativi. È altrettanto vero che abbiamo previsto e richiesto che il privato, oltre a quello che prevedeva lo standard necessario per legge di parcheggi pubblici, che erano circa 3.000 metri quadri, abbiamo richiesto e imposto uno standard di parcheggi per 4.800 metri quadri. I lavori sono stati affidati all'immobiliare Scarpellini che grazie alla Convenzione provvederà alla sistemazione delle vie Fogaroli e via San Rocco, interventi prioritari per l'attuale amministrazione.